Beni per un valore di oltre 200 milioni di euro sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Catanzaro all'imprenditore catanzarese Antonio Lobello e ai figli Giuseppe e Daniele che nello scorso mese di marzo erano finiti in manette nell'ambito dell'operazione Coccodrillo con le accuse tra l'altro di intestazione fittizia di beni, riciclaggio e autoriciclaggio, una holding familiare secondo le fiamme gialle che hanno condotto approfonditi accertamenti sui movimenti patrimoniali e societari che si sono verificati nel corso degli anni. Nel corso dell'operazione Coccodrillo dalla quale erano emersi anche i presunti legami tra Giuseppe Lobello e la Coscarena di Isola Caporizzuto era stato disposto il sequestro di alcuni beni di fatto riconducibili ai tre imprenditori anche se intestati al loro prestanome. Dagli accertamenti svolti nell'ambito dell'indagine era emerso infatti che gli imprenditori per mettere al sicuro il proprio patrimonio ed eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria avevano intestato fitiziamente alcune delle loro aziende a dei prestanome. Le indagini economico-patrimoniali condotte dagli investigatori del GICO, della Guardia di Finanza di Catanzaro con il coordinamento della procura distrettuale antimafia avrebbero consentito di ricostruire gli ingenti patrimoni riconducibili a Lobello i cui valori sono risultati sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati o alle attività economiche svolte. L'ingente patrimonio sottoposto a sequestro per un valore di 200 milioni di euro è costituito da 110 fabbricati e 49 terreni situati tra Catanzaro, Simeri, Cricchi, Settingiano e Ciron Marina, oltre a decine tra automezzi e motoveicoli, disponibilità bancarie e finanziarie, quote societarie in 13 aziende e complessi aziendali di 12 società operanti nel settore dell'edilizia pubblica e privata e aggiudicatari di numerosi appalti pubblici e ancora il complesso aziendale di una società operante nel settore della ristorazione e la società proprietaria di un esteso cantiere per la produzione del calcestruzzo nel quartiere Lido di Catanzaro.